Giornate di intenso lavoro in casa Caffè Aiello Corigliano, con il direttore sportivo Pino De Patto, allora riparte una nuova stagione con una squadra ampiamente rinnovata, con quali ambizioni? Le ambizioni sono quelle di fare un gran campionato, un po' per riprenderci dalle delusioni dei risultati dello scorso anno, un po' perché la piazza lo merita, i nostri tifosi lo merita, i nostri sponsor lo merita, il nostro presidente ovviamente piace vincere. Abbiamo allestito una squadra che ha le basi e i presupposti per fare molto bene quest'anno. Walker, convocato con la propria nazionale, parteciperà ai mondiali, arriverà con qualche giorno di ritardo, ma anche questa convocazione è un ulteriore segnale sul valore del giovane australiano. Ma è una squadra che comunque ha tante punte di diamante. Razzira, per esempio, tra i primi ad arrivare sarà già in città per il 17 agosto, un altro giocatore di sicuro affidamento. Sì, il roster per quello che riguarda ovviamente la base della squadra, il sestetto titolare è un roster, ritengo, di alto livello. Walker è una sorpresa, è un giovane talento, ovviamente ha firmato con noi un contratto pluriannale, ha delle qualità e delle doti importanti. E pertanto ritengo che sia stato convocato ai mondiali dal suo allenatore Uriarte per rappresentare la propria nazione, proprio perché ha espresso una grande sicurezza, una grande determinazione nelle gare di World League con la propria nazionale in Italia. È un momento comunque nel quale non ci si ferma. La squadra ha organizzato un gazebo per essere vicina alla città e ai tifosi nel corso della notte d'estate del 17 al Centro Storico. Tante iniziative, tra poco parte la campagna abbonamenti e cominceranno le amichevoli. Con quanto entusiasmo si riparte e andiamo anche a dare qualche piccolo appuntamento alle centinaia di tifosi che seguono quotidianamente la Caffè Agliello Corigliano anche in questo periodo. Parteciperemo come ogni anno con molto piacere a queste iniziative estive organizzate nel nostro comune. Saremo presenti anche quest'anno con il nostro sponsor, il nuovo sponsor tecnico. Quest'anno avremo anche la possibilità di farci compagnia con il nostro nuovo giocatore, Michael Rezzira, che arriverà stanotte. Gli amichevoli ovviamente quest'anno è un carnet bellissimo perché giocheremo subito dal 13 settembre fino al 4-5 ottobre. Abbiamo circa 5 partite in casa, quindi abbiamo modo di testare la nostra squadra da subito. e basta. Poi è chiaro che continueremo nella fase di preparazione, andremo avanti per quello che riguarda il discorso tecnico. Nel frattempo però voglio anche precisare che proprio in occasione della nostra presenza domenica 17 a Corigliano Centro Ricominceremo con la vendita dei biglietti della lotteria che avrà, come già abbiamo anticipato, è stata spostata la data della prima estrazione, quindi il 5 ottobre in occasione del trofeo Caffè Aiello dove ci sarà questo bellissimo torneo con squadre di A1 e la Tonno Calli con Vibo Valencia presente e in quell'occasione faremo la stazione finale. Poi per la campagna abbonamenti, questa partirà subito dopo questo evento di domenica, vedremo di sorprendere i nostri tifosi con qualche agevolazione e qualche situazione che li possa mettere in condizione di seguire tutte le partite quest'anno.